Grazie 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 Culo 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 Guardi Vale anche camminare un po' così? Vale? Non vale? Aspetta aspetta Calma Aspetta Giulio Non cominciamo eh Non cominciamo a morare Sono dei pari Tanti? Dovete per cosa ci si può amigliare Sicuramente Le bocce? Mettile vicino Mettile vicino No ma si deve saltellare Ehi! 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 Pronti! Pronti! Chi? 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 Oddio! Ehi! Via! 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 Ehi! 4 3 2 1 Via! Vieni! Vi è arrivati insieme ad arriva eh! insieme rari schegge il muro schegge il muro schegge il muro schegge il muro stava schegge il muro ecco la vita che io mi spettacca oh, non c'è qui weil le non valore le non valore le non valore le gara ne valore la regola tristia la e poi vengono allora ci ricamina dall'inizio Sì, c'è un po' di disinfettante. Ma dov'è il disinfettante qualcosa? Il problema è che il giorno è dove cercare. Sì, lo so, è che se vado dentro le dico dati. Ma no, non mi è cazzo. Allora, facciamo altre due copie in attesa che questi si riposano un attimo. Ci hanno rubato la gara, posso dire solo questo, meritavamo di vincere. Ok, allora, quello che porta la carriola è che un po' toccare le voce con le maie. Quello col sacco non può precedere... Bravo! Sono io che faccio giù alcune e li inculo tutti, non ce l'ha? Scorretto! Scorretto! Così non si no! E l'altro deve prendere saltando e deve stare sempre a pari o dietro al carriolista. Dietro, a pari o dietro, vai davanti! Ma no, se ballano va bene! Davanti solo se ve la raccogliano! Ma dai, si tocca la carriola! Che ladri! Via, via, dai, sei pronto! Posso dire una cosa, riprendimi! Posso dire una cosa? Non puoi toccare! Non puoi toccare! Devi guardarti! Devi guardarti! Devi guardarti! Per esempio, la riconosciuto da un conno. Lascia la bozza! Eccola lì! Ecco la buccia! Eeeh! Non ma come la buczia! Non mi metto! Non puoi! E' che buco io! Vai! Vai! Dai! bravissimi secondi arrivati ce l'ho messa tutta faccio un'intervista siamo stati boicottati grande grande un bacino un bacino chi è che c'è con me giulio noi facciamo i due contro i due giulio è una camera portassola al carriale no non ce l'ho c'è la sigaretta la mia sigaretta attenzione che arrivano non ce l'ho messo è un fatto il suo non ce l'ha messo è un piccino ha Kanye ha detto la maglia depuis non c'è un piccolo è un piccolo non c'è un piccolo sono cittano è unpus altissimo io volevo riportarmi prima secondo qualche eliminatario aspetta che ci riprendono hanno rubato posso dire la mia? la gara è stata falsata poi parlano degli sconfitti ma immeritatamente perché la gara è stata falsata la prima ci hanno bloccato la strada finito par condicio non è vero un cazzo inventano delle palle ignobili per dire che hanno perso malesemente sullo strada se la par condicio vale per tutti bisogna dire una cosa che carletto marchese e ormai vince perché paga bisogna dire a tutti lui paga le tangenti lui paga le tangenti per vincere queste gare bisogna dirlo e io lo dico io sono il Cusani il Cusani di Santa Maria della Versa perché bisogna dirlo cavolo osteria bisogna dirlo ecco quello che salva la situation ciao brutus bravissima saltatore o carriolista saltatore o carriolista saltatore o carriolista eccezione eccezione no altrimenti devo avere un altro sacchista ma lui ha già fatto il sacchista ancora sono due è uguale dai non registrano più le regole è una regola è semplicissimo lui non può correrti davanti può starti di fianco o di dietro tutte le volte che una boccia cade tu ti devi fermare lui la deve andare a prendere basta vince che ero per prima qualche dichiarazione? niente da dichiarare nessuna dichiarazione per i nostri nessuna dichiarazione attenzione attenzione si sposti per favore due uno via bravo 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 insalzate insalzate basta basta Cos'è? Dai Carriere! Eeeh! Porta! Viva! Vai! Aaaaaah! 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 Si fermi! Si fermi! Vai dai dai dai! Non è quella propria! Non vai a toccare il mentale! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! Dai Velo, vai! Eeeh! la vittoria è a portata di boccia la vittoria è a portata di boccia se non mi è vincato non faccio lo sprint non mi va che ti frega la guccia il mare ci sta facendo un lungo filmato e poi noi rivedremo con grande piacere io ti favo eh ti fai l'abbiamo gestabilito io allora neanche mette i sassi non va vale tutto gli altri ti possono piccato e le comatte i sassi bene sono pronta la sfida realmente possiamo partire dai sassi dai via i sassi vieni bambini davanti pericoloso dai via i sassi tiratela tiratela eh vai vai facendo sta minchia vado dai dai la bozza non va no hai iniziato lui vado vado si riparte si riparte si riparte ma che c'è giulio si riparte illegale sono comportati in modo ostruzionissimo non vale voglio 10 metri di squadra carlo verrà penalizzato con 5 metri di partenza e dietro allora si parte la coppia carlo carlo e giulio partono 5 metri avanti eccoci dammi una oh no aspetta che non lo metto dai si perché no se ne ho regolarità dai attenzione non voglio risassi ma lui sta parando no no voglio qua uno che controlli abbiamo il nostro ispettore in bianco che è lì che ha fatto per controllare che meraviglia pronti via lo vado a satturare no 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 sicuro no le borse le borse via no direttamente in vantaggio vantaggio buona 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 le panace le borse brava le borse grazie bravo ma bravo 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 Grazie. 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 Lei ha dichiarazione da rilasciare, eh? Non si può, non si può giocare in questo modo qui, il mondo, tutti i bastardi, i culattoni. Non è possibile. Tre spettatori. Sono due culattoni, quei due là, bastardi, rotti in culo, che barano, si sono drogati. L'ho visto io che pippavano dello zucchero prima di partire così avevano più zucchero nel sangue. No, peccato non sei sceso, peccato! Avanti gli schiavi! Avanti gli schiavi in Egitto! È nuovo! Io chiedo se posso lasciare. No, è un schiavo! Dichiarazione da rilasciare? No, nessuna, non mi presto a questo abbastanza, ma credo... Voglio sapere che cos'hanno in programma quegli stronzi di Carlo Alberto e Giorgio, cameraman parla. Si boccotteranno sicuramente però. Abbiamo vinto moralmente, questo mi importa. Abbiamo vinto moralmente. Io voglio un bacco per difendermi da Giorgio. Alla finale definisco di sorteggiare la carriola e anche il posto. Allora! Te l'appoggio! È giusto! È giusto! È giusto! Pari e disponi! È il posto! Dai! Moneta? Prima confidato! Vabbè. Vabbè. Vai! Vabbè! Campioni a saluti! Campioni a saluti! Campioni a saluti! Grazie a vinto! Grandi! Oh! Buon complimenti! Sono forti il primo filo! Bravi! Ci avete lindicato di quali giustizia storica! Bravi! Ci avete lindicati! Bravi! 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 Mi sento onorata No no, 15 e mezzo dai Mi sento onorata Mi sento onorata Mi sento onorata Io ci mi ruolo Io ci fu 15 e mezzo Oltre i 20 Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda I due Sì Non so carbonare Buonen 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 21 metri adesso è più libero 25 metri Vincolo tre uova, vincolo tre uomini, vincolo una frittata, con l'uovo raccolte per la strada. Allora prima coppia femminile rossa in Asia ci vogliono altre coppie femminili. Dai Cristina, vieni Cristina dai. Grasby, Grasby, Grasby. Bellissimo, quasi intero. Bravo, bravo. Portalo a casa. Guarda, lo puoi portare in casa. Buongiorno. Ciao. Ciao. Sei a culo. Bravo, bravo. Grazie di più. Un po' caldo eh. Un po' caldo eh. Dichiarazione di rilasciare. Devi tenerlo un po' più alto, grazie. Bravo, bravo. Sì. Qua? 15? No, no, 15? No, 15! Dai, batateci! Qua tanto? Qua tanto? No, non mi viena! No, stupi qui. 15, sei dentro! Dai, 15! Restare, fin te! No, no, no! Vanni, girati Vanni Ciao Vanni Dai tira, tira No C'è il mezzogiorno 10 metri Buone Dai che batti il record Vediamo mettermi qua Vai Patrizio Alza eh Alza 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 15 e 2 dai facciamo 15 benissimo vai iscriversi chi vuole iscriversi che faccio il uomo sono aperte le descrizioni benissimo bella presa è buona qua è buona è buona è buona è buona ma cosa ne frega me è duro che fai il gioco? è duro è buona ventuno ventuno a tante cose fare merito vai non vale ci puoi contare no 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 tre uova sono centri e adesso facciamo un calo Bruno pensa che ho famiglia a casa mi vedi almeno? rotto 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 felissimo propria stai con 15 vai di 15 dai Bruno mi vedi? ce ne vanno tutti tre lo vedi? dai che fanno bene l'uovo fa bene i capelli dai Bruno vai alto Bruno alto molto alto più alto dai più alto dai non così basso scusa come sono? bellissimo bravo 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 Bruno vieni vieni più lungo ci sono? bravo 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 non fai a girare, va bene arrivo alla raffa Nudo qua, l'ha preso Nudo Giulio minchia di palzo no, ma vince di venire per me noi faccio la chiesa quant'è la chiesa che sava cosa parla è ancora visto Mariano fatto rispettatore a noi uuuu ti ero uno un tre col vai alla fortuna qui Basta, andate ancora! Non è più? Non è più? Stanno parlando, e non se ne accorgi nessuno! Giorgio! Come faccia le bambini? Vai, vai! Oh, segno! Giorgio! Allora! Giorgio! Guarda! 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 Lorenzo! Guarda! Onore! Guardo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marchese e Giuliano. Giuliano e Marchese. È caduto? È caduto il termine. È caduto il termine. E dopo il mio testo si è attaccato. E dopo il mio testo? E dopo il mio testo? E dopo il mio testo? È il mio testo? E poi non si è attaccato. E facciamo una coppia. Manny? Oh ma no. e sta mangiando stia ma stai anche io Mario e Mariano ciao 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 Gigiano ciao ancora non tu perché hai reclamato fino adesso toccava a te hai saltato il turno oramai hai saltato il turno 0 a 0 Bruno 0 a 0 vuole scegliere lo stai riprendendo il tuo person il tuo di chi? la mia mia Mariano più di la pasta oggi è che sono forata è diventato prima bravo ha rotto il primo colpo bravo non occorre anche in cazzo chi tocca dopo l'uomo? no che mio allora vedete oh no si va ai 20 si entra in una fase critica della gara porto con le macchine transitare transitare fermate in Mercedes fermovi brutto bravo beccato ce ne frega un cacchio beccasero ti invidia vai Bruno qual è il record? buono eh io il mio 12 12 12 12 chi? chi è? non riundi non riundi un datone ma come c'è Giordi? vuoi le macchine? c'è una pista Paravelli Marchese Allancio Marchese E' il punto che Gugliela Mi fa giugno a tutti Allora, uno, uno Mario, guarda questo Poc, 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 poc Poc, poc, poc Poc, poc, poc C'è il mio amore Orsa C'è il mio amore 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 Vuole entrare dentro in questo momento In cui si soffre però Non è bellissimo Una volta della folla Brava Rosa Prendilo, eh Prendilo, dai Sì Preso Prendilo come solo tu sai fare Eh, adesso non c'è Dai Rosa, dai, dai, dai Prendilo, eh Dai, dai Ciò, ciò, ciò Brava Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie per la visione